ciao sono alessandro perili fondatore di aste giudiziarie strategy la prima struttura che ha creato l'accademia online in italia che insegna le persone come partecipare alle aste giudiziarie oggi voglio parlarti di quel primo passo che devi fare una volta che hai effettuato già il tuo business plan a monte prima di un investimento alle aste quindi che sia nell'ambito immobiliare o nell'ambito mobiliare questo non fa assolutamente differenza e qual è questo primo step che si fa dopo aver fatto tutte queste valutazioni è assolutamente quello di compilare un ottimo documento che ti permette di partecipare e presentare più che altro la tua offerta ma per parteciparvi serve un assegno quindi l'assegno che generalmente si fa circolare non trasferibile intestato alla curatela fallimentare è sempre del 10 per cento ovviamente non è in tutti i casi così perché molto spesso ci sono delle aste che non hanno bisogno di presentare un assegno ad esempio quello che mi viene in mente molto spesso è la possibilità di presentare semplicemente una giusta documentazione attraverso le le aste con modalità di invito offrire dove tu se hai presentato un ottimo documentazione non hai assolutamente bisogno di presentare anche un assegno circolare del 10 per cento dell'offerta che tu hai fatto però ovviamente nelle nella stragrande maggioranza delle aste ad esempio quelle con incanto sono appunto presentando l'assegno del 10 per cento che ti permette ti autorizza a partecipare sempre se hai seguito i giusti passaggi e hai intestato in maniera corretta il tutto perché altrimenti ad apertura delle buste non hai la possibilità nemmeno di partecipare all'asta e sei escluso già a priori e ti puoi perdere assolutamente delle possibilità sia se tu stai investendo o addirittura fai perdere possibilità a potenziali clienti che invece ti hanno affidato il loro compito se stai facendo consulenza e quindi se hai ricevuto una delega da parte loro ho voluto girare questo video perché tra le varie domande che mi arrivano ultimamente mi è arrivata questa domanda da parte di una persona che mi chiedeva se ci fosse la possibilità di poter intestare l'assegno a nome di una terza persona anziché a nome della persona che si sarebbe intestato poi effettivamente il bene una volta che fosse aggiudicato devo dire la verità che facendo una ricerca in casi davvero rari è successo che il delegato alla vendita che sia un avvocato un commercio un commercialista o un notaio comunque una figura professionale autorizzata dal giudice quindi che effettua poi la vendita nel proprio studio o all'interno di strutture giudiziarie è capitato che il professionista chiedesse esplicita autorizzazione al giudice di accogliere questa possibilità ed è stata data ovviamente non è sempre così perché nella ripeto stragrande maggioranza della normalità di partecipazione all'este giudiziarie l'assegno deve essere sempre intestato a nome della persona quindi fatto dalla persona che poi alla fine si andrà a intestare il bene che eventualmente si aggiudicherà sia immobile ossia un bene immobile personalmente non mi è mai capitato lo ripeto ho sempre attraverso le mie consulenze che faccio tutt'oggi ho sempre avuto gli assegni con il 10 per cento sempre intestati alla persona quindi al cliente che mi che mi ha dato la delega quindi mi ha autorizzato la delega per la partecipazione all'asta al nome suo ma il bene una volta giudicato è intestato sempre al cliente e l'assegno viene fatto sempre a nome e da parte del cliente nei confronti del del tribunale quindi mai da parte mia quindi spero di aver chiarito questa possibilità e che cosa serve innanzitutto per partecipare a un'asta giudiziaria una volta valutate tutte le possibilità di fattibilità di un buon investimento o di un buon acquisto per te o per il tuo cliente l'assegno è il primo passo di questa seconda fase da dover tener conto è molto importante dover compilare in maniera corretta se si vuole partecipare davvero a un'asta giudiziaria se vuoi imparare ogni settimana attraverso le nostre live e unirti al gruppo privato di astra giudiziaria e strategi clicca sul link qui sotto e iscriviti al nostro gruppo riservato dove all'interno troverai agenti immobiliari investitori come te persone che sono all'interno della nostra accademia online che stanno creando una propria professione per raggiungere la propria libertà finanziaria attraverso le consulenze con i clienti quindi in questo gruppo ci sono tutte queste persone che in maniera unita lavorano su un unico scopo quello di imparare a partecipare e a sfruttare questa opportunità delle astra giudiziarie quindi ti aspetto all'interno del nostro gruppo ciao